E stabilimenti balneari aperti tutto l'anno, il Via Libere è arrivato dalla giunta regionale martedì sera per favorire la destra generalizzazione turistica e creare occasioni di nuova occupazione. Non si capiva perché finora non era stato reso possibile in un territorio dal clima mite come il nostro, commetta l'assessore al turismo, lavoro e ambiente Giovanni Calabrese, ieri ospite della cerimonia di inaugurazione della sede Parco Costa degli Dei presso la Tonnara di Bivona, nuova sede operativa dell'ente parchi marine regionali. Un'occasione per fare il punto, seppur in breve, sulle attività dell'assessorato a tema mare e turismo. Il mare è una risorsa decessiva per la Calabria, una risorsa da tutelare e abbiamo deciso di creare all'interno del Dipartimento Ambiente un'unità operativa dedicata alla tutela del mare, della natura e della montagna affidata a Roberto Cosentino, ha annunciato l'assessore Calabrese. La differenza rispetto al passato, come dice sempre anche il Presidente, è che le cose si dicono e si fanno, ha proseguito Calabrese, è questo l'indicatore principale del lavoro del Governo regionale. Oggi stiamo cercando di investire su asset fondamentali per lo sviluppo, come parchi, turismo, lo abbiamo fatto recuperando e spendendo risorse comunitarie utilizzate dal Governo regionale precedente, pari a un miliardo e iniziando a spendere subito anche le risorse della nuova programmazione. Giovanni Calabrese ha annunciato un nuovo bando che uscirà a breve, destinato alle strutture turistiche, con un investimento totale previsto di 100 milioni di Euro. Dobbiamo migliorare la qualità turistica che in alcune aree, afferma Calabrese, è medio-bassa. Serve però anche un cambio di mentalità, una cura per le nostre risorse ambientali, che diventi responsabilità condivisa e diffusa. L'altro giorno ho assistito a una cosa incredibile, mi hanno girato un video dei giorni in cui c'è stata una mareggiata e ho visto un'auto, una Smart, spuntare dal mare. Ora è arenata sulla spiaggia di Sant'Ilario, stiamo provvedendo a rimuoverla, ha raccontato, vi rendete conto? Una macchina, ecco perché bisogna cambiare cultura, dobbiamo renderci conto del danno che arrechiamo all'ambiente, al mare, ai nostri fiumi, con alcuni comportamenti. Lavoreremo anche su questo, avviando un percorso di formazione ambientale.